Un selfie per salvare Murales del parcheggio della Misericordia. E' questa l'ultima idea lanciata dal critico d'arte a retino Danilo Sensi, un'iniziativa nata per sensibilizzare cittadini ed amanti dell'arte sul valore delle opere realizzate dai noti street artist Erone Moneles nel 2015 nell'ambito di Castica. La Maratona Culturale inizierà a martedì 19 luglio alle 18 in Piazza del Popolo ad Arezzo e proseguirà poi per tutta l'estate. Secondo le ultime dichiarazioni, se non la muta, ha dichiarato Sensi, i murales verranno abbattuti assieme ad una palazzina dell'ex caserma Cadorna per realizzare la nuova sede del centro per l'impiego di Arezzo. Per conservare la memoria e per scongiurare la distruzione rivolgo un invito a tutti i cittadini e in particolar modo al mondo dell'arte e della cultura di Arezzo a scattare un selfie per tutta l'estate fino al momento della paventata demolizione davanti ai due lavori. L'iniziativa così si unisce adesso alla richiesta avanzata, sempre dallo stesso Sensi, di acquisto delle opere in Piazza del Popolo. Grazie.